e benvenuto ragazzi e ragazzi e bentornati costano di oggi siamo di nuovo su naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing ragazzi oggi mi vedete un po' perchè ho i capelli sporchi ce li ho quasi tutti i giorni che cazzo ma va bene mi vedete con appunto col cappuccio all'assassin creed per questo motivo ho dei capelli pessimi quindi starò ecco c'è ho dei capelli che fanno schifo ragazzi quindi vedrò di fare in questa maniera qua oh perfetto tra un po' mi farò la doccia ragazzi oggi siamo qua perchè è uscita una summon una batch molto interessante spero che non andiamo a fare vabbè andiamo a fare la singola perchè la singola ci sta sempre e fa parte di noi usatemi un altro telefono per messaggi e cose uh 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 ah cagare niente di spiccio ok la batch in questione è questa qua Ultimate Blazing Bash di Kabuto Yakushi Proof of Cell l'altro controparte non so chi possa essere in questo momento non mi viene in mente quindi non saprei proprio non saprei ragazzi chi dirvi ma va bene eh ragazzi quasi può si può anche droppare si può anche sbloccare vincere non so come cacchio si possa dire se non erro un bel pg un naruto strafigo però non me lo dice proprio bene detto ciò ragazzi la story purtroppo non mi da capitolo nuovo non me lo da o si no non me lo da perchè se no ci sarebbe stage 24 viva slavitas e tutos vivas non so perchè mi sono messo a scrivere adesso però va bene tralasciando questo particolare oggi ragazzi avevo intenzione di fare questo Ninja World Ultimate Showdown sempre se va ma dovrebbe andare si va no si va va ok perfetto non mi interessa andremo a farlo ovviamente qualificar league questo è il team però voglio modificare tipo questo qua select all poi li andrò a modificare tutti voglio vedere se c'è qua qualche extra effect da poter usare di pg no niente scherzavo credevo che fosse qualche qualche cosa invece no ah bene allora a stappunto andrò a usare il team questo qua il team spacca con lo schiena controllo solo il messaggio ragazzi e mi si è chiuso il gioco così va bene come mai vabbè ragazzi ce li vediamo appena entro eccoci ragazzi siamo pronti carichi siamo entrati nel game e non so il motivo ragazzi ma mi si è interrotto tutto che non è la registrazione mi si è interrotto il gioco e mi ha appunto uscire e adesso appunto sto riprendendo da dove più me non mi ero fermata minchia lui è tier e livello 6 io sono tier e livello 1 il tipo mi è simpatico perché si chiama hai un batman oh se il messaggio che fa allora vediamo cosa succederà ad esso uno non ha messato e va bene comunque ha un bel team tutto sommato non fa schifo il suo team non è male però già iniziamo male iniziamo malissimo oh 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 e la sua tu fai singola o fai di doppio fai singola mannaggia te si non è che mi devi rompere il cacchio ogni volta ok giusto in tempo e ma c'è shikamaru e mi sa che ho kakashi o gara molto probabilmente di più kakashi me lo fa fuori o tutti e due invece no solo kakashi ma infatti e ma mi fa fuori gara e se mi fa fuori gara sono scottuto infatti sono un po' fregato qua si posso obito però tu non mi fai una multi però non mi riprendi tutti mannaggia te e allora sai cosa c'è facciamo una cosa prendiamo questo e me lo mi busto un po' attacco se fa qualcosa si spera ok miss eh dai obito però se questo qua va via che culo niente obito tra i tre quarti di pippa e tanto non lo piglio perché se lo piglio il chakra la boccetta di chakra era tanto capace che prima mi fa fuori obito almeno io ho fatto eh infatti me lo fa fuori eh se becchio obito almeno ne lo fa più no ok ok mi hai battuto in un modo strafigo devo essere sincero ti faccio un applauso perché mi hai aperto il sederino in maniera bella cioè con una bella secret technique barra ninjitsu ma penso che sei secret che ninjitsu penso penso dire di provarne a fare un'altra sperando di aprire il culetto io o qualcuno acquetta la mano e lui un tier 1 oppure questo pedroccia pedrocla ok comunque ragazzi uno di voi mi ha chiesto sotto nei commenti dei miei video di naruto barra anche video il mio id per giocare insieme purtroppo ragazzi vorrei darvelo il mio id però purtroppo per motivi di privacy non posso è perché non so come si per far vedere l'id oltre a che è un po' una privacy per sicurezza questo gioco è importante ci tengo è tutto studiato questo gioco cioè ci ho messo tanto a fare con ogni cosa dare il id così non è molto bellissima come cosa comunque ripeto non so neanche dove si trovi quindi non potrei neanche darvelo perché non saprei dove si trova quindi non saprei come trovarlo più che altro quindi mi dispiace se nel caso giocando così tipo questi ci incontriamo molto volentieri giochiamo non mi dispiace però dare il id il gioco del genere per smartphone non è tutto sto trincare e mi hanno già fatto fuori uno buono se mi fanno fuori gara oh che palle come conto ci fate che mi fanno fuori gara direttamente Kakashi tocca al mio simpatico gara che proteggerò perché se no mi va a fare il cuccolo prendo qua la bottiglia di chakra vediamo cosa succede ragazzi sto pensando di lasciare crescere la barbetta e di farla bella poo e poi me la toglierò vorrei farmi la festa più di alto e perfetto a posto allora che culo yeah non mi può giocare né obito né minato sì che bello adesso ho li perdo tutti i tre o ne perdo solo uno dei tre che è molto probabile che perdo tutti i tre che giornata di merda ragazzi una giornata pessima c'è dalla pioggia a tutto adesso cioè due due su due perse ma che cazzo pure il team non è brutto cioè è un buon team forte anche il mio ma va bene ragazzi purtroppo per queste sconfitte è brutto provare a fare un'altra perché hai già paura di perdere ma vabbè ragazzi non mi resta che dirvi che per questo video è tutto mi raccomando commentate iscrivetevi noi ci vediamo in un prossimissimo video e quindi non mi resta che dirvi che è epic è epic a tutti e rasengan perché è divertente